Vorrei chiederti di cosa ti cerco quando adesso, appongiunando dopo dalla maturità, e quali sono le due prospecchie per il futuro? Allora, io dopo la maturità mi sono presa un anno sabbatico perché ho deciso di curarmi e adesso l'anno sabbatico è finito e sto iniziando a sento troppo a fretta perché comunque cerco di non stressarmi troppo, sto cercando di dare delle ripetizioni, per loro ho tutta la settimana piena e questo mi rende molto felice perché finalmente per la prima volta riesco a fare magari anche qualcosa senza chiedere aiuto ai miei genitori, magari voglio fare qualche regalo, voglio prendermi qualcosa per me e non chiedo nulla a loro e per me è una grandissima soddisfazione, veramente. In più sto collaborando con la ricerca dell'ospedale presso il quale sono stata ricoverata proprio per i disturbi alimentari, quindi ogni tanto mi chiamano per fare qualche test oppure per fare degli elettroencefali e per aiutare appunto i medici a capirne un po' di più perché comunque fino a quando non ci passi puoi studiare quanto vuoi però di fatto è un po' difficile capire cosa entra nella testa di una persona che soffre di disturbi alimentari. E poi ho in mente tanti tanti progetti che non dico per scaramanzia, sono molto scaramantica su queste cose e poi vorrei iscrivermi a fare il corso per assistenza alla poltrona e poi odontogliatria. Nel tuo caso i tuoi professori come si sono comportati? Se ne sono accorti del fatto che tu hai sofferto di questi problemi, che mi hanno aiutata? Un po' la tua esperienza raccontaci. Allora io ho avuto un'esperienza super positiva con i miei professori, tuttora li sento tutti, dal primo all'ultimo, li vedo, per me sono stati veramente grandiosi perché io all'inizio non sapevo di stare male, pensavo di stare bene, infatti quando mi hanno per esempio proposto il ricovero la cosa che io ho detto è stata ma cosa ho fatto di male, ho perso solo un paio di chili, peccato che poi non erano un paio ma erano 20. I miei professori si sono accorti ancora prima di me che io stavo male, mi ricordo che inizialmente si sono avvicinati molto piano, inizialmente c'era la DAD per tutti e mi ricordo che magari alcuni professori mi dicevano Diana ti puoi fermare un attimo dopo la lezione che ti devo dire delle cose? Io magari mi dicevano come stai, ti vedo un po' più spenta, come sta andando? Oppure delle osservazioni tipo Diana hai sempre la tapparella abbastata perché poi sono arrivate le telefonate sempre da parte dei miei professori, telefonate in cui i professori erano preoccupati, Diana io sono preoccupata, non sei più quella di prima, che cosa è, cosa ti sta succedendo, stai mangiando, stai dormendo? Io inizialmente ero molto fredda perché per me nella mia testa mi stavano rovinando i piani, però poi in realtà loro hanno preso la situazione in mano quando sono svenuta a scuola e hanno deciso poi di farmi fare la DAD da quel momento in poi e in quel momento hanno deciso di chiamare l'ambulanza perché hanno notato perfettamente, avevano notato che c'era qualcosa che non andava e mi sono sempre stati vicino, sempre, anche quando ero in ospedale loro mi scrivevano, mi stavano accanto, sono stati veramente meravigliosi e in più hanno cercato di venirmi incontro senza farmi sconti perché io non ho mai voluto sconti, ma comunque cercando di cambiare il metodo di studio in base alla mia condizione tipica. Io per esempio sancavo tantissime lezioni sia per visite degli hospital sia perché non stavo bene, quindi loro mi registravano tutte le lezioni e poi me le mandavano e ogni tanto facevo magari degli incontri con loro su Meet in cui risolvevamo eventuali dubbi, per esempio che non avevo capito qualcosa, loro me lo rispiegavano, sono sempre stati molto carini e questo poi mi ha portato anche ad appuzionarmi ancora di più a loro, abbiamo un rapporto molto bello, sono molto contenta. Quindi penso li senti ancora ai tuoi professori? Sì, 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 dal primo all'ultimo, mi iscrivono anche magari quando pubblico qualcosa su Facebook, ogni tanto ci vediamo, li ho visti proprio qualche giorno fa perché stavano facendo la maturità della mia suzione, quindi c'erano molti professori in comune e dopo l'enormo peso ho festeggiato un po' con loro, sono andata a trovarli, erano tutti molto contenti. Quindi comunque sono riusciti a rimanere comunque vicini a te, nonostante la tab, nonostante la tab, nonostante la abbandonanza. Sì, sì, canso. Invece volevo chiederti un po' come il tuo rapporto con il tuo problema di salute e i compagni di classe. Ma diciamo che adesso io non so se ho effettivamente fatto la scelta giusta oppure no, però la cosa che ho fatto io purtroppo è stata quella di tenerli lontani. Mi rendo conto che io non stavo bene, forse volevo, non lo so, non avevo neanche realizzato bene che cosa avessi. Quindi inizialmente mi scrivevano perché comunque loro erano in presenza, io ero in dub, due domande se le facevano. Mi vedevano male, quindi mi scrivevano. Poi sono svenuta davanti a loro, quindi ovvio che mi dicevano, Diana va tutto bene? Io però continuavo sempre a rispondere loro, tutto bene, sto bene, tutto bene. Questo è ovvio che dalla mia parte, ovviamente io non l'ho fatto con cattiveria, però dall'altra parte può essere percepito come, ok, tu mi rispondi, tutto bene oggi, tutto bene domani, tutto bene un'altra volta, vuol dire che non hai piacere a parlare con me. E quindi si sono preso le distanze, automaticamente ho preso le distanze anch'io. Per cui insomma con alcuni li sento, altri no, diciamo che purtroppo è successa questa cosa, ma non so neanche io se è giusta o sbagliata.